Ola, oggi Caroline e io... Calimera! Significa buongiorno in greco. Perché parliamo queste lingue? Spieghiamolo a loro. Ok, prepareremo un piatto per bambini. Faremo del guacamole messicano e... Tac, zac, zacchichi e... Zazzichi. Tachichi. Zazzichi. Oh, giusto, zazzichi. Ok, di cosa abbiamo bisogno? Per il guacamole abbiamo bisogno di tre avocado, tre pomodori, succo di limone, aglio, sale e pepe. Per il tzazzichi abbiamo bisogno di mezzo cetriolo, tre cipolle e naturalmente aglio e yogurt greco, sale e pepe e menta fresca. Abbiamo ciò che serve per iniziare. Facciamo prima il guacamole. No, il tzazzichi. Guacamole. Tzazzichi. Guacamole. Guacamole. Tzazzichi. Ok, iniziamo facendo il tzazzichi. Sì, prima di tutto i cipollotti devono essere lavati e tagliati finemente. Vedete? Sì. Anche la menta deve essere sminuzzata. Più fina è, meglio è. Già, e il cetriolo deve essere affettato finemente. Lascia la buccia dato che fa bene e contiene tante vitamine. Ora prendiamo una ciotola. Sì. Grazie. Aggiungiamo yogurt. Sì. Il cetriolo. I cipollotti. Naturalmente la menta. E mettiamo un po' d'aglio. Non dimenticare sale e pepe. Sì. C'è bisogno di un altro po' di sale. Sì, ok. Ora che abbiamo finito, possiamo metterla in frigorifero. Sì. Gran bel lavoro. Facciamo il guacamole intanto. Per il guacamole si parte tagliando l'avocado a metà. Usiamo la tecnica del ponte. Formiamo un ponte con la mano, in modo da proteggere le dita. Sarebbe una buona idea chiedere a qualcuno più grande di voi di aiutarvi. Potrebbe essere pericoloso. Noi tagliamo tutto intorno all'avocado. Così. Se ho fatto bene, devo solo... Voilà. È perfetto. Anche il pomodoro deve essere tagliato a cubetti. Tiri fuori la polpa? Sì. Quando avete finito, potete mettere il tutto nel frullatore per miscelare. Giusto, sembra buono. Ecco. Potreste farlo quando organizzate una festa, oppure quando siete con degli amici. Ecco a te. Grazie. Assaggiamo. Uno, due, tre. Delizioso.